Ciao ragazzi, il vostro fratello Marci ha deciso di farvi una grande sorpresa perché oggi inizieremo una serie vanilla hardcore sul canale Hardcore cosa vuol dire? Che se ovviamente morirò all'interno della serie il mondo sarà perso per sempre Volevo mettere quel brio per iniziare una nuova serie dato che me la state chiedendo in tantissimi da ormai mesi a questa parte e siamo pronti per iniziare raga, sono molto emozionato Voglio iniziare con voi tutto e andiamo subito a fare tutti i passaggi per creare il mondo Creiamo il nuovo mondo, andiamo subito a dargli un nome Allora, serie hardcore marci senza nome Secondo me è perfetta perché ragazzi sarete voi a darmi dei consigli su come chiamare questa serie Fate tutti i commenti che volete, li leggeremo tutti Game mod chiaramente hardcore così non potremo né cittare né fare niente Andiamo nel world e qui ragazzi ho una piccola sorpresa per voi Perché parlando con un burlone una sera su discord Mi ha mandato un seed che è esattamente questo qua E mi ha detto Marci ma vuoi iniziare un hardcore difficile o un hardcore facile facile? E ho detto beh mi piacerebbe fare qualcosa di parecchio complicato per fare una provata pazzesca E questa è la provata raga Sponiamo su un'isola bella grande che io non mi sono spoilerato Ma l'ha raccontata lui, io solo ho visto lo spawn per vedere se esisteva E ragazzi inizieremo la nostra hardcore proprio su un'isola Andiamo a creare il nuovo mondo raga e vediamo che cosa c'è davanti ai nostri occhi Siamo all'interno di una taiga e questa dovrebbe essere proprio l'isola di spawn iniziale Ci tengo anche a dirvi una cosa che non ho messo la resource pack della visione notturna Fatemi sapere anche questo nei commenti se volete chiaramente che la metta oppure no Si come un hardcore pensavo che fosse un pochettino più carino chiaramente non inserirla L'isola sembra molto interessante Unica cosa non vedo ancora degli animaletti che mi possano dare una mano per il cibo Quindi non vorrei che io debba adesso andare a fare un'esplorazione fin da subito Perché chiaramente senza cibo come facciamo? Forse magari possiamo trovare delle bacche che ci possono aiutare per questo inizio di serie Probabilmente sì Dobbiamo guardare bacche e dobbiamo chiaramente prendere anche le mucche perché abbiamo bisogno di cibo Se no chiaramente come cibo direi di andare a prendere anche il pesce Che comunque se ne in un'isola siamo contornati da oceani Quindi non possiamo non averne Non sono più abituato raga a dover fare crafting table e tutto Non sono abituato proprio a una serie vanilla Eccoci qua raga io direi che mi faccio una spada Almeno mi posso prendere immediatamente Sì questi qui devo prenderli per forza Questa crafting la lasceremo qua come prima crafting della serie Quindi ricordatevelo Dobbiamo venire poi a mettere un cartello che ho scritto la prima crafting table della serie Allora volevo un attimino anche esplorare bene Lì è una pecora raga dobbiamo andare assolutamente lì Perché le pecore ci servono per dormire Volevo un attimino vedere com'era la zona Sembra molto interessante raga Davvero molto interessante Non ho capito se qua Ah ma qua raga c'è un fiume Che praticamente crea due isole Ditemi che è così Che io impazzisco raga Anche questi cari qua io me li prenderei molto tranquillamente Perché un po' di cibo in più sicuramente non fa male Quindi prendiamo subito questi pesciolini Che ne ho solo due Aspetta che questi qua infatti non me li ha dati Neanche questo Cerchiamo di stare attenti raga Siamo in hardcore Dobbiamo veramente stare attentissimi a questa cosa Dai otto pesci mi vanno più che bene Almeno poi posso cuocerne direttamente otto con un pezzettino di carbone Ok da questa parte si sale Sì Speriamo che ci siano le pecore così almeno riusciamo a prenderle subito Qua però forse mi conviene Eh raga qua mi conviene subito prendere la stone E ci facciamo tutti gli attrezzi in stone Mamma mia cos'abbiamo già tutto per bene Lì c'è anche già del ferro Siamo super fortunati di questa cosa Allora tre pezzettini facciamo il piccone Poi altri tre pezzettini facciamo l'accetta Poi direi un pezzettino per la pala E due pezzettini per la spada Ne prendiamo altri tre giusto per averne da parte E buttiamo via questo piccone che a me le cose in legno raga Non le sopporto Quindi abbiamo detto piccone accetta Facciamo la spada e facciamo anche Ma sì facciamo anche la pala Facciamoci tutto Così questi attrezzi saranno i primi E ce li terremo da parte ragazzi Prendiamo anche questo carbone Che non si sa mai Anche perché se dobbiamo poi cuocere le cose Ci serve No ne abbiamo sei set Otto pezzi Io metterei già a cuocere qua un po' di roba raga Facciamo che questa sarà la nostra casa base almeno per questo primo episodio Uno Due E mettiamo a cuocere questi otto pezzettini qua Qua vedo del ferro che sinceramente non lascerei qua per niente Dimmi che sono almeno tre Uno Due Solo due Non si espande Sì che fortuna raga possiamo farci il piccone A posto raga ci facciamo anche il piccone E siamo a posto Ma sopra c'erano chiaramente delle pecore Andiamo a prendere le pecore Se no come dormiamo raga E qua ragazzi la notte è cattiva eh In hardcore se moriamo siamo finiti Bella questa zona con la mega taiga Secondo me è ancora meglio dell'altra zona Io farei proprio la casa qua dentro raga Però fatemelo sapere voi nei commenti Cosa almeno decidiamo per bene Allora qua altre pecore non le vedo Ah altre pecore ma qua ci sono anche delle bacche raga Che per iniziare le bacche io me le prendo molto volentieri Ci facciamo una piccola farm di bacche E siamo molto molto contenti Anche perché qua abbiamo anche dei semi Tre pezzi Oggi io lo prenderei proprio per questa cosa qua raga Cerchiamo di farci una piccola farm di roba Almeno abbiamo tutto Tutto il cibo che ci serve Allora questo quanto me l'ha dati due pezzi Riusciamo a farci un bellissimo letto? Sì tre pezzi Ok Vorrei però farmi un letto colorato Qua non ci sono i fiori gialli vero? Qua non possono spawnare proprio i fiori Mi sa che sono dall'altra parte in alto dove li ho visti prima Vabbè raga fa niente direi Non stiamo qui a cercare le cose Forse questo mi può dare il colorante rosso No me lo sono completamente sognato Eccolo Qua c'è il colorante rosso però io non lo volevo Eccolo giallo 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 raga A posto Eh però aspetta me ne servono tre di coloranti gialli Mannaggia mi sa che non ce ne sono tre qua in giro raga Io volevo il colorante giallo Ti prego dimmi che ne trovo altri due me ne servono per favore Io vedo solo funghi qua Io voglio il colorante giallo raga Sento della lava raga eh Qua sotto c'è della lava Sicuro il 100% Allora vediamo intanto se ha completato di cuocere le cose Beh al 100% ha completato di cuocerle Così abbiamo almeno 8 pezzi Fatemi sistemare le cose in ordine preciso Riprendiamoci questo E riprendiamo direi anche questo qua E vediamo dipendere dai questi coloranti gialli Almeno facciamo il letto giallo E sono contento Prendo anche un pezzo di gravel Così nel caso ci servisse la selce Siamo a posto Ok vediamo quanto dà il salmone Tre Non è moltissimo tre Colorante giallo uno Colorante giallo due E abbiamo i tre coloranti ragazzi Un due tre Abbiamo anche la lana gialla Fantastico Ma sapete cosa non vi ho mostrato Non vi ho mostrato che ho visto in lontananza Un albero di azalea Sono troppo contento Ma guardate lì cosa c'è C'è un portale abbandonato Che figata Aspetta un attimo che quasi quasi raga Io il portale abbandonato lo vado a prendere Perché metti caso che c'è qualcosa di interessante Eh no conviene andare raga Conviene assolutamente andare No andiamo nel prossimo episodio dai Andiamo nel prossimo episodio Esploriamo ancora un pochettino la zona Per capire se c'è qualcosa di interessante Tipo questo pezzo di ferro qua Che è direttamente sopra È da prendere assolutamente Però mi sembra che ce ne sia solo uno Vediamo Sì purtroppo ce n'è solo uno Comunque avete notato Quanto scende poco La fame del salmone raga È incredibile Pensavo che Poca da più saturation Non ne ho idea sinceramente Eccole qua altre pecore Finite qua carissimo Bisogna anche del vostro cibo Tanto spero che respognate Perché sennò qua sono cacchi Quello che volevo mostrarvi Sì ve lo faccio vedere da questa parte Allora intanto abbiamo un piccolo maialino Che intanto lo uccidiamo Voglio anche trovare un animale domestico Devo decidere se voglio Un cagnolino Che si trova in questa zona qua In questa mega taiga Dovrebbe poter spawnare un cane custom Quindi sarebbe molto interessante O non lo so Vediamo Allora intanto la cosa Che vi volevo far vedere raga È che c'è un albero di azalea E questa cosa per le mie costruzioni È una cosa incredibile E fantastica Guardate C'è l'albero di azalea Che figo Bellissimo Solo che non mi ricordo Come si fa ad avere i sapling di azalea Mi sa che così no Ci serve il moss block Che qua non c'è Non lo so Ditemelo nei commenti Perché io non me lo ricordo Allora a sto punto vi direi Che facciamoci una Facciamoci una piccola base qui E dormiamo immediatamente Perché se qua muoio Io non me lo perdonerei mai Quindi dormiamo Cerchiamo di non far spawnare assolutamente i mob Così evitiamo qualsiasi problema Ok Prendiamoci il letto Tanto non abbiamo respawn chiaramente Essendo in hardcore E decidiamo dove farci la nostra casa base Lo sento già un piccolo zombie Aiuto Non lo voglio lo zombie vicino a me Penso che questa sia La zona più bella Dove far la casa Io penso che disboscherò Questa zona qui Così poi potremo fare Un ponte Che ci porta dall'altra parte Adesso devo decidere Se qua sopra proprio Io inizierei comunque A togliere un po' di alberi Perché tanto sono troppi Quindi non ha neanche senso Tenerli tutti qua Vi devo dire ragazzi Che abbiamo fatto Un ottimo lavoro Abbiamo disboscato Praticamente Tutta questa zona qua Ed era quello che ci serviva In questo momento Per capire più che altro Dove stanziarci a tutti gli effetti Penso che questa collinetta qua Mi piaccia Però È un pochettino Troppo piccola Quindi secondo me Dovremmo spianare un po' tutto E metterci più o meno A questo livello qua Quindi dovremmo spianare Ma lo facciamo poi Adesso ci tenevo Un attimino a fare le farm Raga Perché intanto abbiamo Tre pezzettini E io ci farei Proprio il secchiellino Per quanto riguarda il ferro Non c'è bisogno di far Adesso il piccone Farei l'acqua E inizierei a piantare chiaramente Le piantagioni raga Perché se no Rischiamo che poi Non abbiamo più cibo Sì va bene avere Fisso I salmoni E tutte queste cose qua Però Non è che posso stare sempre A pescare 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 Oh ferro guarda L'avevamo chiamato Uno Un pezzettino e basta E dai Potevi darmene due Però è Sei stato un po' Cattivello qua Allora prendiamo Un pezzettino Uh ma lì c'è un veliero Lì potrebbe esserci qualcosa Di molto interessante Eh ragazzi Mi sa che io Quello lo vado a vedere Mi sa che lo andiamo A vedere subito Così magari ci troviamo Anche una mappa Del tesoro E avere già Qualche oggettino Da parte Non sarebbe male Vediamo un po' Sostrano qualcosa Che ansia Sono abbastanza ansioso Perché Già non abbiamo Vediamo Non abbiamo molte cose Ragazzi Stiamo un po' Rischiando eh Stiamo un po' Rischiando Lì c'è qualcosa pure C'è una cosa Degli affogati Allora scendiamo E vediamo subito Se c'è qualcosa Non vedo niente Raga No non vedo niente Non vedo niente Aspettate un attimo Che qua secondo me Rischio un po' Di schiattarci Quindi facciamo un attimino così Non voglio schiattare Il primo episodio Dell'hardcore Almeno 100 L'obiettivo sono 100 episodi E soprattutto Cercare di completare Tutti gli avanzamenti Allora facciamo così Teniamoci una porta E guardo dalla vostra visuale Raga Perché da voi vedo meglio Perché voi vedete Tutto più illuminato Ok c'è dell'acqua Ci sono delle patate Queste me le prendo Molto volentieri C'è anche del bambù Raga E io sto morendo No 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 Vai su Che rischio E poi abbiamo rischiato Un sacco Raga Però mi sa che c'è qualcosa Lì raga No? Come lo sto sognando Qualcosa qua Dovrebbe Ah c'è la porta Vedi? Fammi piazzare la porta qua Mi fai piazzare la porta Ok stiamo Recuperando vita Non so minimamente dove sia C'è una cesta qua Aspetta non vedo niente Raga non vedo niente Non vedo niente neanche qua Qua c'è la cesta Eccola Quanto ferro c'è? Ma quanto ferro c'è? Aspetta Porta Apri la porta Ok sto recuperando vita Raga non vedo assolutamente Dove sono Ma abbiamo 22 pezzi di ferro Però non abbiamo preso la mappa Non c'è mi sa Mi sa che non c'è Vabbè torniamo su adesso Che è meglio va? Allora Fammi sistemare un po' l'inventario È che abbiamo troppe cose Raga Vorrei andare giù a vedere Se ho mancato qualcosa Perché ho il presentimento Che qualcosa L'abbiamo mancato La buttiamo via La gravel che non ci serve La terra che non ci serve Il poppy che attualmente Non ci serve La carne a marcia Teniamola per le venienze E direi Allora Capiamo un attimino Lì sotto Ok lì c'è una porta Ok Ma ce n'è una anche sotto In teoria Vedete forse aspetta Forse è qua Ora che vedo meglio Dovrebbe essere addirittura qua No ma qua c'è C'è tipo la terra Vediamo se è qua sotto Spacca No non c'è niente Allora aspetta Vediamo un attimo di lato Se ci sono le porte Perché in genere Ci sono le finestrelle Le porticine Ok vediamo Qua c'è una finestra Eccola Ho detto io raga Però non vedo la cesta Non vedo la cesta Provo a cliccare a caso Eccola Ma no qua ho aperto le porte Quindi non c'è niente Questa è la zona Dove siamo andati noi adesso Quindi dobbiamo scendere ancora di più Secondo me Può essere che mi sto sognando Ste cose Non vedo niente Né con voi Né senza di voi Qua mi serve per forza La visione notturna Allora aspetta In realtà ho un'altra idea Scendiamo un attimo Ce l'ho l'accetta Dov'è la mia accetta raga Ah l'ho finita È vero Che stupido Allora entriamo un attimino qua dentro Qui abbiamo la mia porta In teoria Perché non posso entrare nella porta Ok Vediamo se sotto c'è qualcosa Raga ho alzato un pochettino La luminosità Non avevo visto che era bassissima Ok ora vedo leggermente meglio Ok ora vedo leggermente meglio Qui sotto Secondo me c'è qualcosa qua sotto Eccolo raga Vedete che ho aperto Guarda che ho aperto Eh no me lo son sognato raga Mi sono sognato che ci fosse qualcosa Però sono abbastanza certo Che c'è per forza La mappa del tesoro E a me serve Quella mappa del tesoro Ultimo tentativo raga Voglio vedere se trovo qualcosa Qua sotto Eccola Trovata raga Ok Abbiamo dei libri Abbiamo della carta Una buried treasure map Che la prendiamo E delle piume Vamos raga Andiamo subito su Che non voglio morire Ok Bene Ora stiamo abbastanza in rischio Perché Io ho paura di morire ora Quindi Facciamo una cosa Serissima Io però non Porca paletta ragazzi Allora Calma Ho un'idea Facciamo una cosa di questo tipo Facciamoci una crafting table Facciamoci un altro letto Non andiamo assolutamente Nell'isola Così almeno evitiamo Che spawnino i mob E dormo qua raga Perfetto Perfetto raga Abbiamo fatto una cosa Veramente geniale Sono stracontento Di averla fatta Ho rischiato Parecchio Ma va bene così Facciamoci una chest Ma raga Sono contentissimo Perché abbiamo trovato Un sacco di cose Che ci possono essere utili Quindi mettiamo Direi una doppia chest Ma mettiamola proprio qua La doppia chest Guarda Così mettiamo tutte le cose Per bene E allora Mettiamo intanto il cibo Che abbiamo Così siamo a posto Così posso fare anche Una coltivazione di patate Raga Non è mica male come cosa Mettiamo poi il legno Li stick Una fire protection 4 Che io mi metto su Immediatamente E abbiamo un sacco di cose Veramente utili Ora però Quello che secondo me conviene fare È andare a trovarla Questa Questa treasure map Perché sicuramente Ci troviamo un diamante E al primo episodio Un diamante Secondo me Non è mica male Tanto ragazzi In caverna Ci andremo nei prossimi episodi E non deve essere Una cosa fondamentale Voglio prima avere Tutte le cose Buone per l'hardcore Quindi Prendere il pane Prendere il cibo Farmi una piccola armatura Cercare di andare in caverna Quando sono messo bene Perché non voglio Assolutamente Morire Allora Mappa in mano Vediamo un po' dov'è Allora intanto A parte che non c'è scritto Dov'è Ma scusa Questa non era Una bio red map Aspetta Non ho preso quella giù Eh sì Era la bio red map Raga Eh non me l'ha data però Non ha funzionato Non ha funzionato Ragazzi Non ci credo Era un empty map Questa qua Non l'ho vista Sono stupido allora Non ci credo È successo È successo È successo qualcosa Raga teniamola Teniamola da parte Sarà la mappa Di casa nostra Questa qua E via Allora Però con tutto il ferro Che abbiamo trovato Intanto craftiamo con questo qua Altri due Lingottini Vado a farmi un altro secchierino Che tanto due ragazzi Servono sempre E iniziamo a farci la fonte infinita E direi le coltivazioni Perché non ha senso Raga Non fare le coltivazioni In questo momento Le farei in queste zone qua Così almeno abbiamo Sia le patate Sia Le patate secondo me Sono pi raga Come come cibo Quindi io farei le patate E andrei a fare anche Un po' di grano Dato che ormai ce l'abbiamo E via Ma mi fa davvero strano Il fatto che siamo riusciti In qualche modo A perdere una mappa Del tesoro raga Incredibile questa cosa E forse non la troveremo Neanche mai Guarda qui che è abbastanza piatto Vi direi che mi sembra La zona migliore Dove andare a fare le coltivazioni Così non è troppo vicino a casa Ma neanche troppo distante Zappa fatta Prendiamo anche Le patate I semi questi qua E cosa abbiamo altro da piantare Nienta Ma piantiamo anche le berries Che non si sa mai Facciamo una piccola coltivazione Che è sempre utile Ho paurissimo di questo mondo È già maledetto raga Se abbiamo perso la prima mappa Il primo episodio Non oso immaginare Cosa potrà succedere Vabbè Comunque Lasciamo perdere questa cosa E cerchiamo di fare Una buona zona Qua raga Allora Prendiamo questa terra qua Perché voglio innanzitutto Togliere tutte queste cose qui Io penso che qua Le utilizzerò intanto Come corso d'acqua Quindi qua possiamo togliere Tutte queste cose qui Bellissime Allora facciamo Che mettiamo la terra Qua al centro Mettiamo questo qua Questo qua E la facciamo diventare infinita Così siamo a posto Poi dobbiamo andare avanti Di 1 2 Aspetta abbiamo fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 Ok Così riusciamo anche a creare Fonte infinita qui Perfetto E facciamo tutte le varie coltivazioni Qua nelle vicinanze Anche se in realtà dovrebbe andare In 8 in avanti Quindi qua va benissimo chiudere Allora facciamo così Abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 Giusto Mettiamo le patate Che sono 11 Ok Direi che le facciamo Tutte qui E qua di lato Raga facciamo i semi Perfetto Lasciamo questa parte qui vuota Cos'è almeno quando ci sarà Da mettere le altre patate Le mettiamo Ok qua me ne manca uno Vabbè continuiamo anche di qua Chi se ne frega E mettiamo questo qua Abbiamo altri semini Che possiamo prendere Dammi tutti i semini 3 4 Forse 4 non bastano Ce ne manca uno Dammi l'ultimo semino Eccolo Fantastico ragazzi Perfetto Invece le bacche Le mettiamo Dobbiamo stare attenti con le bacche In realtà Perché possono far danno Quindi le mettere qua Anche se l'acqua non serve per le bacche Quindi poco importa in realtà Lasciamole così Lasciamole distanti un attimino Anche perché Sì Per forza raga Dobbiamo lasciarle per forza distanti Perché se no Se le mettiamo vicine Prendiamo danno Anche perché guardate Adesso così non prendo danno Ma se diventi Se crescono Mi pare che prendo danno Comunque fratelli miei Direi che questo episodio Può concludersi qua E ci vediamo Settimana prossima Con un nuovo video Mi raccomando Commentate con tutto Quello che vi ho chiesto E se la casa In questa zona qua Vi può piacere Oppure no Consigliatemi altro Nel caso E se la casa E se la casa E se la casa Grazie a tutti.